Il derby si tinge di rosso blu, successo di misura per il Taranto dopo un mese di stop decide a quadro con un velenoso colpo di testa che beffa pizzolato allo scadere del primo tempo. La gara parte lenta ma si conclude con tanta intensità, c'era forse da aspettarselo vista la lunga pausa forzata. Le novità di formazione stanno in particolare tra gli juniores, nel Taranto si rivede dall'inizio Serafino, la Gzir resta in panca mentre De Luca sceglie Palumbo. Per vedere la prima azione da raccontare bisogna attendere 13 minuti quando proprio Palumbo pesca sul secondo palo la carra la cui acrobazia è tanto bella quanto imprecisa. Circostanza analoga 11 minuti dopo, Guaita lavora di forza un buon pallone, lo serve in aria dove Falcone prova la sforbiciata alzando però la mira. È il 28esimo quando Yaya si avvicina minaccioso alla porta ionica ma il suo tiro è deviato da Rizzo che salva. Il Brindisi riparte bene ma non riesce a concretizzare, botta, mette il turbo, l'azione in velocità, vede Palazzo servire la carra, quest'ultimo di sinistro conclude senza la forza necessaria. Poco prima del vantaggio Guaita mette in imbarazzo pizzolato su un tiro cross che costringe l'estremo difensore Brindisino ad una respinta affannosa. La rete da tre punti giunge al quarantesimo quando con il tacco Falcone serve la corrente Caldore che pennella un assist sul primo palo per Aquadro che beffa pizzolato di testa fuori dai pali. La reazione bianca-azzurra non si fa attendere. Al quarantatresimo la carra si vede soffiare il pallone da boccia proprio nel momento in cui stava per battere rete. Nella ripresa è del Taranto il primo squillo con il solito Guaita. L'argentino al sedicesimo vede infrangersi sull'ex d'Angelo la possibilità del raddoppio. Sei minuti ancora ed il Brindisi alla palla buona per pareggiare. Maglie si trova sul destro il pallone dopo un pasticcio difensivo rosso-blu ma da buona posizione spedisce sugli spalti deserti dello Iacovone. Nel finale ancora Palumbo servito da Merito si avvita in aria a Tarantina ma spara altissimo. Al sesto minuto di recupero nell'ultimo disperato attacco del Brindisi in avanti c'è anche il portiere Pizzolato la cui acrobazia però non ha buona sorte.